Terzo giorno di sciopero della fame per Dino Scipioni, un paziente aquilano ricoverato da 22 giorni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Chi controlla la qualità dei pasti si chiede il telespettatore che nell'inviare la sua denuncia ha mostrato anche alcune foto. Scipioni in sostanza denuncia la qualità dei pasti che secondo quanto da lui riferito vengono cucinati a pizzoli la mattina alle 10.30 arrivano in ospedale per essere poi serviti dice alle 13, stesse modalità per la cena. Come può essere denuncia Scipioni un passo servito dopo 4-5 ore dal confezionamento e poi Scipioni riferisce ancora di minestre salate e pane che viene scaricato all'esterno dell'ospedale alle 7.30 per essere portato all'interno solo alle 7.30 dice Scipioni con i gatti che si aggirano nella stessa zona. Scipioni racconta anche di aver preteso di parlare con le dietiste ma dice ancora non ho ricevuto risposte convincenti. Fatto sta che al terzo giorno di sciopere della fame. Ovviamente per completezza di informazione abbiamo provveduto a contattare telefonicamente anche il responsabile del servizio mensa del San Salvatore il quale non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa sulla vicenda che noi riportiamo riservandoci però e riservando alla ASL se lo riterrà opportuno tutto lo spazio per fare le loro considerazioni per esprimere la loro posizione sulla questione.